Play Lover Academy è un vero e proprio corso di seduzione per capire le donne, ma soprattutto per capire quello che queste ultime vogliono dagli uomini. Ecco, io ho visto tanti video di Play Lover Academy che, se non erro, è ubicato nel nord dell'Italia e vi posso dire che la caratteristica di questi corsi è che vanno a intervistare, nei video che ho visto, tutte ragazze molto belle, tutte ragazze molto affascinanti, con la minigonna, con le calze, i tacchi, insomma le belle ragazze che rispondono alle domande di questi ragazzi. Adesso io non voglio prendermela con loro, anzi mi piace molto come format, sono sincero, però devo essere sincero e devo muovere una piccola critica nei loro riguardi, nei loro confronti. E qual è questa piccola critica? È la seguente. Perché intervistare sempre, o meglio spesso, bellissime ragazze pensando che quello che è quel punto di vista di quella ragazza sia il punto di vista di ogni ragazza italiana o donna italiana? Punto interrogativo. Ecco, io dico che probabilmente questo Play Lover Academy vada a generalizzare un po' troppo, cioè vada a creare una sorta di stereotipo nei confronti degli italiani. Attenzione, io non sto a dire che questo format fa schifo, di non seguirlo eccetera eccetera, anzi, ripeto, mi piace molto, è molto utile, è straordinariamente piacevole da seguire, Però se devo essere sincero, e lo dico senza falsa retorica, come direbbe il buon Andrea Di Pre, questo format va secondo me un po' troppo a generalizzare, ed è come se venga posto il punto di vista di ogni donna italiana, Quando nella realtà dei fatti è quella donna che risponde alle domande di quel bel ragazzo che le va a chiedere, cioè quella bella ragazza risponde a quel bel ragazzo, a quel signore, a quel fanciullo, che fa parte proprio di questo format. Se non erro sono due ragazzi, quello che ha i capelli alla poco, no? Sparati in aria, impomatati, e l'altro ragazzo un pochino con i capelli corti. Credo questo, se non erro. Ecco, perché dover prendere in esame, per forza di cose, il punto di vista di quella ragazza, associandolo al punto di vista di tutte le ragazze e donne d'Italia? Ecco, io non ci sto, io Leandro dico no, non posso credere che vada in giro una cosa del genere, anche perché quella bellissima ragazza, secondo me, avrà dei gusti diversi, rispetto per esempio ad una ragazza, dal punto di vista estetico, brutta, sgradevole, schifosa, va bene? Quindi, mi piace il format, ripeto per la centesima volta, però è bene andare a disvelare qual è il punto di vista anche di altre ragazze. Io, per esempio, cosa farei se fossi uno di questi ragazzi? Mi metterei, metterei la telecamera appuntata su un gruppo di ragazze e donne, io farei le domande e ogni donna risponde per sé, seguendo l'opinione propria. Quindi andrei a prendere sia una ragazza bella, bellissima, che una ragazza brutta, bruttissima, che una ragazza media. Tre tipi di ragazza, bella, quindi bellissima, bruttissima, brutta e media. E a ognuna farei la stessa domanda e vediamo come ognuna mi risponderebbe. Ma no che quel bel ragazzo va a prendere la solita bella, bellissima, anche perché sono molto belle le ragazze che vengono intervistate, minigonna, calze, tacco, belle truccate, molto esteticamente proprio ci tengono molto alla loro estetica, e che rispondono alle domande del ragazzo, ok? Quindi io questo farei, invece no, la bellissima è intervistata. Poi è il suo punto di vista, mi sta tutto bene, però è anche bene, è anche importante sapere, rendersi conto in concreto, che quel punto di vista che la bella, la belloccia, la bellissima dice, potrebbe essere un punto di vista, diciamo così, di pertinenza appartenente solo a quella bella ragazza, a quella bella donna, ma non a tutto il genere femminile, va bene? Quindi generalizzare dicendo, cosa cerca una donna in un uomo e risponde alla belloccia, se secondo me non è del tutto giusto, ok? Attenzione, io non sto diffamando questo programma, questo format, anzi, ripeto, è bello perché è utile, abbiamo a che fare con bellissime ragazze che rispondono, e mi sta bene, no? Si riescono a capire un po' quelli che sono i gusti di costori, di queste belle donne, di queste belle ragazze, però secondo me si va a generalizzare un po' troppo, e questa è la mia opinione barra visione. Detto ciò, vi ringrazio in primis per la visione di questo video, il secondis per il relativo ascolto, iscrivetevi, se vi va, commentate, Un saluto caro da Leandro, il conoscitore italiano.